buongiorno errimo ragazzi e benvenuti a praga io vi aspetto qua in questa sede la sede della finale vedete benissimo che la c'è in lontananza una fabbrica una fabbrica abbandonata all'unione sovietica siamo qua siamo proprio qua a praga vi aspetto qui perché sono convinto che andremo in finale non importa neanche che fai gli scongiuri non importa perché sono convinto di questo andremo in finale però per arrivarci ragazzi bisognerà soffrire come sempre siamo la fiorentina ieri anche stavolta la fiorentina ci ha dimostrato che non è semplice niente perché potevamo tranquillamente vincere due tre a zero nel primo tempo chiuderla subito e invece no e invece no nonostante il sivaspor avesse fatto 30 ore di viaggio in autobus ragazzi davvero 30 ore di autobus in autobus e 30 ore di viaggio nonostante questo nonostante fossero stanchi nonostante fossero inferiori notevolmente a noi non siamo riusciti a chiuderla non so ancora non mi so spiegare se questo è dovuto al fatto che ci siamo sentiti un po troppo superiori ci siamo sentiti un po troppo ganzi troppo troppo belli e non si riusciva a chiudere niente da una parte ci credo molto in questa ipotesi visto che davanti porta abbiamo cercato due scavini due pallonettini invece della sabongia alla batistuta io non riesco a capire come mai gli attaccanti moderni ancora non riescano a tirare in porta ragazzi mi verrebbe da dire se ci avete i joystick della playstation pigiate quadrato pigiate quadrato e caricate no loro giocano con l1 tondo il pallonettino no ragazzi no davanti porta va affatto davanti porta occhi chiusi e tirare mi insegnavano così sempre fatto così va bene comunque al di là di questo credo che la fiorentina anche al ritorno non abbia pensieri anche se anche se laggiù è tutta un'altra storia giocheremo uno stadio sicuramente pieno di sostenitori turchi visto che è un bel insomma è una bella tifoseria o comunque tutta la turchia possiede una bella tifoseria bella calda bella caliente giocheremo e questo non è da poco a più di mille metri d'altezza cosa che freddo insomma sbalzi termici considerevoli a cui noi non siamo abituati dobbiamo metterli in considerazione perché i giocatori sono umani e quindi non sarà semplice e poi insomma ragazzi ci sarà sempre la pressione che è una competizione una competizione a cui tengono tutti io particolarmente perché sono già qui a praga però anche il siva sport è una squadra lo dicevano anche ieri quelli di da zone scusate di tv8 è una squadra che comunque è abituata a fare le coppe una squadra neanche troppo giovane e quindi insomma ci terranno molto a far bene e a proseguire la competizione vediamo la fiorentina sulla carta è superiore lo sanno anche loro però il calcio ragazzi è così ieri tra l'altro a un certo punto sì sì forte forte però poi alla fine a un certo punto tu rischiavi anche da da sotto quindi è sempre così veniamo al pagellone allora partita sostanzialmente ho dato tantissimi sei perché al contrario di della partita contro il milan dove faticavo a trovare un peggiore in campo ieri fatico a trovare un migliore in campo per me migliore in campo e barack perché ha deciso la partita poi il restante siamo tutti sul 6 6 e mezzo qualcuni qualcuno ma veramente una partita molto lenta a tratti anche noiosa e dove ripeto la fiorentina doveva gestire meglio la situazione ovvero poteva chiuderla subito e poteva fare sicuramente meglio quindi un po anche sciupona terracciano gli diamo 6 poco impegnato brividi sulla traversa poi dopo non mi ricordo nessun altro tipo di intervento uno dove veramente si è rischiato forte è stato sventato da igor e quindi diciamo il terracciano si è visto arrivare poche volte gli attaccanti del sivasport dodò gli diamo 6 primo tempo bene per spinta intensità secondo tempo un pochino più un moscino se si è addormentato un pochino di più si è risvegliato quando c'è stata la mezza rissa dove ha fatto praticamente 40 metri di campo per andare in faccia a quello espulso quarta 6 gara ordinata non brillante però sempre attenta ha commesso pochissimi errori qualcuno un pochino più più pesante dell'altro però nulla di che cosa che invece sembrava igor non fosse in prova in serata visto che commette un errore molto grave se lo sbaglio nel primo tempo fa ripartire l'azione del sivasport e potesse un'azione pericolosa però poi da lì si è riscattato a parte il gol appunto sventato ma poi dopo comunque secondo me in in difesa è stato il migliore biraghi 6 alcuni gli hanno dato anche 5 e mezzo 5 secondo me non ha fatto una gara insufficiente ha fatto una gara semplicemente poco brillante non sono arrivati cross dalla sua parte però comunque in fase difensiva sulla sinistra ha fatto passare poco quindi siamo una gara senza infamia senza lode ok poi è stato ammunito non si è capito perché per perdita di tempo salterà la prossima questi arbitri veramente internazionali a me mi fanno veramente ridere però ambrabhat 6 sbaglia un intervento e prende anche il giallo poi anche lui gara sufficiente non l'ambrabhat visto contro il milan sicuramente non l'ambrabhat visto contro i mondiali non l'ambrabhat a cui siamo abituati però comunque una partita sufficiente il discorso ragazzi che per esempio su ambrabhat io mi aspettavo meglio perché queste partite internazionali di solito così come contro le grandi squadre ti fanno giocare un po di più ok sono un pochino più lunghi questo si va a sporre invece al di là del fatto che si sono parcheggiati davanti all'area di rigore ed erano molto schiacciati però questo si va a spor in realtà erano molto più corti quindi mi aveva da dire che in queste situazioni la fiorentina fa un pochino più fatica non solo in fase d'attacco ma anche quando cerca di distruggere il gioco con ambrabhat castrovilli gli diamo 6 primo tempo di grande intensità ha fatto detto madonna questo l'infortunio gli ha fatto bene mi verrebbe da dire però in realtà nel secondo tempo comincia a perdere alla lunga intensità comincia a perdere contrasti è normale però insomma segnali di grande ripresa sta che fa un gol che poteva venire giù il mondo e quindi veramente se veniamo i golli di tacco potevamo vincere per k o k o tecnico andiamo su barack ecco barack forse l'unico diciamo il cui l'unico al cui ho dato 7 per il gol decisivo ma anche per il piglio con cui è entrato in partita mi è piaciuto mi è piaciuto anche perché me lo stavo domandando dove fosse durante la partita negli ultimi tempi era impiegato leggermente meno mi aspettavo ieri un impiego anche da titolare visto visto che appunto non aveva giocato contro il milan e invece insomma entra e aiuta tutte e due i reparti sia quello d'attacco che quello di difesa mi è piaciuto molto buonaventura ecco se devo dare una leggera insufficienza forse la do a buonaventura buonaventura non mi è piaciuto né nel come ha gestito il insomma l'azione da gol visto che anche lui ha provato lo scavino e poi mi è piaciuto molto meno per intensità contro il milan ha fatto un partitone contro l'ellas aveva fatto un partitone gioca sempre ci sta una piccola battuta dal resto però da un giocatore come lui ti aspetti sempre il massimo mandragora ecco mandragora è un giocatore che ad oggi io non non toglierei mai anche ieri quando poi castrovilli è stato sostituito insomma però c'era una parte di gioco della fiorentina stava cominciando a perdere equilibrio mandragora te l'ha riportati sembrerà un'assurdità per molti tifosi viola che l'hanno subito becchettato dal giorno 1 però in questo momento mandragora è uno dei più in forma è uno dei più indispensabile in questa rosa poi non è che faccia cose esorbitanti però comunque da un po di equilibrio icone 5 forse l'insufficienza più grossa che ho dato oggi marcato molto stretto effettivamente non riusciva mai a sfondare anche perché lo raddoppiavano sempre nel primo tempo specialmente il sivaspor era parcheggiato veramente davanti all'area di rigore però non ci ha messo neanche troppo il suo c'è stata una piccola azione se non sbaglio me la sono anche un po appuntata dove sembrava pericoloso però tutto sommato una partita dove poteva veramente fare di più sottile invece è entrato bene un po sprecone in certo occasioni però è entrato bene con tra con tanto con tanta voglia con tanto dinamismo grande velocità secondo me lo dico ora lo dico ora prima di parlare poi per me lui sarà il vero acquisto di gennaio io mi auguro perché ci è mancato molto anche italiano è mancato molto secondo me italiano aveva impostato gran parte della manovra offensiva di quest'anno su sottile ti fa un po girare le scatole quando si incaponisce e ok certe volte lo fa anche un po troppo il cr7 però è un grande giocatore nell'uno contro uno veramente devastante uno contro uno e tra l'altro sembrava vincere sempre anche nico gonzales a cui do sei e mezzo ho visto qualche sei risicato sei meno però in realtà per me è una partita a sei e mezzo nel primo tempo non lo prendevano mai l'unica cosa che gli mancava era il gol dici dici poco sì è vero però bello l'assist era anche per jovic dove gli ovici spreca con quella mezza cacata di pallonetto però bello anche veramente i dribbling con cui riusciva facilmente a saltare i giocatori del siva sport sembrava molto ispirato nel secondo tempo invece una battuta d'arresto anche perché aveva speso moltissimo nel primo tempo jovic per me peggiore in campo al di là del gol sbagliato l'ho visto veramente a tratti impalpabile poco poco gestibile è anche un pochino sbogliato è tornato un po lo jovic di sempre nervoso rimedia anche il giallo ieri partita no la partita che a cui io tra l'altro affiderei sempre in in europa la titolarità ajovic però anche vero che mi aspetto un giocatore diverso cabrali invece entra i do sei perché entra entra bene si fa vedere anche con un oblas un tunnel sul giocatore del siva sport quindi a dimostrazione che sta bene sbaglia un mezzo gol dentro l'area di rigore però comunque un giocatore molto molto in fiducia lo si vede mi è piaciuto infatti la mossa di italiano di non sostituire jovic ma metterglielo accanto cosa che tra l'altro noi tifosi ospicavamo da tanto tempo e per questo italiano per me prende un sei e mezzo non solo per questo ma perché azzecca anche cambi mette anche barack e mette una formazione tutto sommato accettabile molto buona per la partita che era poi di qui a fare un risultato diverso ce ne passa e infatti secondo me soprattutto nel primo tempo doveva intervenire meglio ok nello spogliatoio però comunque la partita dove secondo me il gli errori l'hanno commessi principalmente giocatori quindi di cui l'allenatore c'entra veramente poco io l'ho visto molto molto disperato sui 12 13 tiri in porta sprecati quindi sicuramente interverrà e questo su questo sono convinto detto questo ragazzi da praga è tutto io torno in fabbrica ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto lasciate un commento con la vostra visione delle partite alle vostre pagelle mi raccomando forza viola jm e vi aspetto qui a praga